Da giovedì sera forti raffiche di vento stanno interessando tutto il Salento e non solo e si registrano i primi danni. Un albero di grosse dimensioni è caduto sui binari della tratta ferroviaria Martina Franca Lecce nei pressi della stazione di Novoli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la circolazione è stata bloccata proprio per consentire le operazioni di rimozione. Allerta gialla diramata dalla protezione civile attese precipitazioni da deboli a tratti forti con modalità localizzata. A destare preoccupazione soprattutto il forte vento e le possibili burrasche. Per questo è vietato l'accesso alle aree alberate di giardini, parchi, ville e cimiteri cittadini. A Lecce ad esempio per tutta la giornata di venerdì ordinata la chiusura in via precauzionale della villa comunale del parco del Galateo, del campo Montefusco e del cimitero. Le raffiche di vento arriveranno fino ad 85 km orari sul territorio mentre 105 sul canale d'Otranto e non si escludono mareggiate lungo le coste. Il vento forte continuerà ancora per qualche ora, ci sono raffiche anche attorno ai 60-70 km orari e oltre. Quindi è davvero vento fastidioso che però tenderà per fortuna entrosera ad attenuarsi un po', sarà comunque moderato sostenuto non più da sud ma da sud-ovest, quindi lì beccio, ma attenzione perché poi nella prossima notte avremo un passaggio piovoso. Un passaggio piovoso sino all'alba di sabato e poi netto miglioramento con venti dai quadranti occidentali e il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso, un po' dappertutto. Però attenzione appunto al passaggio piovoso della notte sino al primissimo mattino, ma il miglioramento sarà davvero veloce e netto anche nella giornata di domenica, bel tempo, ma tornerà però di nuovo a dar fastidio il vento forte, con forti raffiche. Attenzione, un piccolo assaggino con vento da nord ci sarà dall'otto in poi con ogni probabilità, aspettiamo delle conferme, ma attorno al 7 della pioggia, poi il vento in rotazione da nord e per qualche giorno avremo anche un calo delle temperature che torneranno su valori autunnali.